L'Africa è un paese meraviglioso ed insidioso, ancora alla mercè di situazioni di instabilità politico-religiosa che non consentono di poter vivere e lavorare in tranquillità. Così la notizia di una suora comboniana di origine venete, uccisa durante il raid di un gruppo terrorista islamico nel nord del Mozambico, conferma la drammatica precarietà dello stato di cose in questo difficile ed affascinante continente. Maria De Coppi, il nome della religiosa, aveva 83 anni e da ben 59 si trovava nel paese centrafricano di cui aveva assunto anche la cittadinanza. Originaria di Santa Lucia di Piave, diocesi di Vittorio Veneto nel Trevigiano, la donna è stata colpita alla testa mentre cercava di mettere al sicuro alcune studentesse, ospiti della missione. Dove si trovavano anche altre quattro sorelle comboniane, due italiane e due spagnole, più due sacerdoti della diocesi di Concordia Pordenone in Friuli Venezia Giulia, che ha diffuso la notizia attraverso Facebook. Attraverso il canale Telegram che i nostri missionari Don Loris e Don Lorenzo usano per dare così le solite comunicazioni, ci avevano avvisato che un gruppo armato, un gruppo di ribelli armato si stava avvicinando alla missione. Per la verità già nella notte tra sabato e domenica c'era stata un'avvisaia, lunedì mattina avevo fatto così una telefonata, una videochiamata ai nostri missionari come succede sempre e ci avevano avvisato proprio della situazione che diventava pericolosa. Non immaginavamo tanto pericolosa come quella che è successa ieri sera. Alle nove c'è stato un primo attacco, sono stata colpita la casa delle suore, suor Maria ha perso la vita, è stata uccisa, i missionari si sono chiusi nelle loro camere, a mezzanotte ci sono stati altri spari, questo gruppo armato è entrato nella missione, hanno derubato, incendiato tutto, però non hanno incrociato i nostri due sacerdoti che quindi l'hanno scampata, sono rimasti vivi, sono rimasti chiusi in camera fino a stamattina. quando poi svegliando, uscendo dalla camera, hanno visto che era stato tutto distrutto attorno, incendio, la chiesa, la missione, la casa delle suore, i due dormitori maschili e femminili, è stato tutto distrutto. È stata una notte drammatica per loro, drammatica per noi che avevamo queste notizie, non riuscivamo a metterci in contatto con loro, per cui avevamo temuto il peggio anche per loro, è inutile nasconderlo, abbiamo avuto tanta paura. Poi nel sentirli stamattina verso le nove e mezza, dieci, così una prima velocissima telefonata dove dicevano siamo vivi ma con il cuore a pezzi, abbiamo preso atto delle notizie ed eccoci qua. Suor Maria era la fondatrice della missione in Mozambico, collocata in una zona molto delicata della provincia di Nampula, dove però i gruppi criminali, perché tali sono Islam o non Islam, non avevano mai sconfinato prima, fornendo così una dimostrazione di salto di qualità contro la probabilmente odiatissima Chiesa Cattolica. La Chiesa c'è, noi missionari siamo qui, oltre che per aiutarvi a costruire un futuro migliore, perché c'era un dispensario medico, c'erano dei dormitori, delle scuole dove i ragazzi potevano, vivevano e provavano a costruire una vita diversa da quella che può offrire la vita nei villaggi. C'era un modo anche per dire, il nostro essere cristiano ci porta a stare lì e a non temere. Io ero stato in visita lì a luglio a incontrare i missionari, a parlare con le suore e quando ho detto, insomma ci sono queste avvisaglie, non avete paura, volete andare via, ho detto siamo missionari, siamo missionari e restiamo qui fino alla fine e così hanno fatto e la povera Suor Maria ha donato la vita fino alla fine.